xiluto ciao cimi cizzo c'è stato anche il record è arrivato il meme no è brutto scusate sapete dove ne parire dello sballo attenzione arrestati immediatamente come faccio a dire alla ragazza dei massaggi happy ending che non mi piace il dito nel culo in cinese ovviamente ci dissociamo però te lo traduco se vuoi vai vai fammi sentire il dito picco si è sentito picco no è culo picco picco quindi bocuno picco o di culo no non è quello anche perché non è cinese edoardo magri edoardo magri 18 onestissimi centimetri compensa con impegno e medesimazione quello che manca in circonferenza glande lucido e liscio perfetto per rompere il ghiaccio a una festa scroto cadente ipnotico pericoloso ma stuzzicante voto 8 su 10 scroto cadente ipnotico ah voglio dire una cosa prima che me la scordi fossa basta cucina etnica in casa mia è adesso sono tre giorni che il puzzo di cipolla non va più via basta io ho tenuto spalancate le porte della della cosa lì di me si ama della porta finestra via a casa mia per tutta la notte sono entrato è andata via leggermente ma c'è ancora le cipolle di merda basta portaci un po' di durian per me no ma non ne voglio più stronzate vieni qui e fa la pizza ti metti lì col mattarello un pasto di farina è più semplice ma il puzzo basta non è possibile andare di là e sembrare di essere dio madonna nel punjab basta a parte spinge testa di morto è quello comune ma il nome scientifico è Acheron ti amo c'è amore che c'è ma è possibile Agnese quando veramente quando io mi chiedo se è possibile c'è apri il foro del cacchio per poi casa moccia riprendo un attimino no il nome gli odio dopo perché voglio che lo senta perché è bello no ma è fanculo devi solo andare a fanculo cosa devi fare allora a posto? no è che Agnese ha capito perché c'era questo odore ancora in casa da tre giorni non era fossa non era fossa no non era colpa di fossa che ho dimenticato nel forno una ciotola intera di curry ancora pieno si sente in realtà aperto il forno si quello che mi sono resoluto anch'io da qui ragazzi ho deciso di ho deciso adesso insieme a voi di trovare un dottore che mi aiuti con la memoria lo so amore lo faccio io mi prendo io la responsabilità l'affronto io questa cosa va bene te ora vai in camera ti rinchiudi ma col cazzo non ci vado in camera io voglio stare qua stai qua ci penso io al mostro ora io contatterò un dottore in diretta lei che è arrivato il momento sì forse è arrivato dottore memoria toscana dottore perde memoria ma poi mi insulti a fossa insulti a dire che non è la cucina etnica era una gag ma poi vabbè il sushi c'è a caso la scrivania fra l'altro ma questo permetti io non lo so non lo so voglio fare questa merda per favore mi sto montando ci penso io amore arrivo subito sì sì vai mi riapproprio un attimo scusa allora questa è una cosa scientifica ok non è autoctona però questa è una tecnica quando affrontate le mie dimenticanze in fatto di puzio di cibo variate in giro per la casa che mi dimentico uso questa tecnica prendete del deodorante poi agitate ovviamente ne spruzzate un po' ah ho capito sotto il naso e poi mi intingete un campione e poi andate ad affrontare il mostro ovviamente non mi ama più ragazzi segnalate agli altri streamer che Agnese mi ha lasciato ma non è vero daniele purtroppo sei stato bannato quindi non sei più uno streamer quindi hai perso tutte le tue possibilità va bene lo dovrei pubblicizzare a breve il crispy mac bacon ragazzi sinceramente sì 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 mi ha contattato mcdonald's per fare lo spa perché so se hai presa io l'ho uscito sempre spessissimo e perché mi piace insomma hanno contattato sponsorizzato chissà se anche a Marco hanno chiamato per pubblicizzare l'estatè anche lui lo beve sempre peccato sembra una fava amore puoi spostare anche la telecamera sì ma non è un vitalino oh amore hai rotto il coglione no è così per dire è la prima volta scusa un attimo è la prima volta raga che gioco quindi dai ma guarda che test di cazzo ma che simpio cioè lei more brava Agnese bravi dai coraggio ce la stai mettendo tutta brava boh voglio io una volta spregi per mezz'ora ma vaffanculo vai lo abbibanno tutti la prossima volta ancora di più ancora di più manca poca aschia anche senti senti basta 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 ti ho ascoltato guarda ma ti dirò ti dirò che potrebbe aver funzionato è uno di quei ragazzacci che hanno per attirare l'attenzione dei genitori e farsi rimproverare probabilmente quel cane 10 ragazzi 9 8 7 non è vero adesso auguri auguri grazie 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 a tutti auguri è un grande radio c'è il numero uno ma non è auguri amore auguri auguri è ma che auguri amore ma che sento sta facendo schifoso ma mi sento il tenere guarda come stai gringiando io non posso urlare metti la scurità proprio metti schermi la scurità cosa c'hai non fai non fai non fai spacchizzo fammi vedere questa cravattina si che merda ma che roba è che cosa che cosa il treno non ce l'ho soltanto io ragazzi te la ti d'occhiare te la ti d'occhiare Michael Jackson ognuno gli basta un pezzo eccolo Michael ma che cazzo bello questa è già sul gruppo telegram spammata eh ragazzi mamma mia auguri auguri grazie sono pieni candele dai ma promettine dai non capiva che tu scordi tanta felicità pensa io lo faccio in quarantena grande Dario è vero ecco sarà meglio la tua red zero auguri auguri ma non mi sembra ma che cazzo dice davvero oh no riga il terremoto fermi confermo oh ma davvero ragazzi buon cas allora scusa Barabba c'è il terremoto dici mon cas ma io veramente vero però li trema le robe ma dove sono le pixel sono da quelle parti no ma è già due oltre pomeriggio ci sono state due stamattina ha vinto guarda ma io lo amo di questi anni anche lui Luca che cazzo me ne frega del jingle vieni vieni no è carino è carino Luca vieni in live dio però ci teniamo a fare festa con noi e con la chat dai ti aspettiamo mio padre guardalo ciao Dario tantissimi auguri grazie Luca grazie guardalo stavo dormendo scusa ma come stava scopando come stai dormendo ha interrotto il coito per te Dario ma sembra Jim Carrey nel film di Sonic è vero tariffe aeroportuali ma cosa sta dicendo sto volendo prendere un eliotero per venire in Toscana che cazzo ridi cosa ridi a terra del campo del Pontevedere a terra per venire in Toscana non atterrà sul VDG per favore per favore sì il coso come si chiama il capocantiere ma cosa il capocantiere chi è il capocantiere del loft mi ha detto quanto si va a spendere 33 mila per ora no 28 mila senza infissi per ora di che cazzo stai parlando quindi cosa c'entra con la municipale è che mi ci vorranno ormai accetto con loro palese e quindi ci vorranno due mesi di lavori due mesi e mezzo io un po' questi due mesi li ho rigadritto perché se no mi andano alla municipale poi gli tocca mi viene a avere il cappellone rotondo mi dice oh lei col cappellone rotondo io mi dica io c'ho il cappellone rotondo ma cosa sono ma le mani io c'ho il cappellone rotondo lei non sa chi sono io no io rispetto il cappellone rotondo signore vigile urbano però allo stesso tempo scusi per il casino ho voluto potere che cazzo stanno facendo se mi fanno come di fare una denunzia tu lo vedi e si va a presto e di aspetta si si penso io ti sto pensando si qualcosa ho sbagliato nella vita però non tutto sto cercando di farcela apposta per te e ce la farò te lo prometto dove prenderò il mischitto dove prenderò le ricotte te la trovate impossibile aspettate ragazzi che c'ho da un attimo fare ma sta russando sta russando sta russando no ero io ero io non russo io merda e coglioni calmo sei calmo sei calmo ma una respirazione perfetta si si l'ASMR seguito per addormentarsi rilassarsi oppure perché c'ho un mio amico che per esempio è innamorato del rumore del phon perché è un rumore bianco lo rilassa lo aiuta a studiare lo aiuta a ragionare a riflettere anche mister satan io cago il rumore del phon si sbiato per studiare è da tanto che non sei convolta emotivamente sì emotivamente ho letto si si è vero si si ma anche fisicamente perché se io non sono convolta emotivamente non riesco neanche ma che cazzo vuoi ma se ora ragioni te masseo masseo ragioni te masseo ragioni te ragioni te di madonna che cazzo ridi che cazzo ridi come dici che cazzo ridi che sei totalmente inefficiente con le ragazze totalmente inefficiente cosa vuoi che io aspetta aspetta cosa conti cosa sei salvini cosa conti ma cosa fai c'è un ma in questa mia eterosessualità se dovessi dare i miei doni a un uomo a un uomo il primo ho capito il primo uomo sarebbe panetti no ma lo dico con massimo rispetto per tutti però Simone indubbiamente me lo dici sempre me lo dici sempre quando te l'ho detto sempre me lo dici ogni volta che ci vediamo i tuoi momenti sono possiamo organizzare se vuoi no Mary Mary non devi mai dire scusa siamo in no stiamo calmi stiamo buoni dai scusa non mi dici siamo su Twitch è vero non è una chiamata privata sai ne parliamo dopo dai possiamo fare uno scambio di coppia no 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 zitti comunque stavo dicendo no mi sta simpatico Simone basta chiuso finito mi sta simpatico Simone simpaticissimo eccetera ah se no vedi come sta ti mando una sua foto tutto nuovo no no tutto nuovo tutto nuovo cosa vuoi in cambio tutto nuovo no no vai via forse in dove esattamente no io non mi ricordi io non mi ricordi queste cose no aspetta l'ha detto lui in chat no l'ha detto lui in chat ragazzi ah l'ha detto in forza no l'ha detto in chat non l'ho detto io forza Dio buono l'ha detto lui in chat non l'ha detto io non l'ho detto io guarda poi coglioni coglioni guarda l'ha detto in forza guarda 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 forza fuori di test fuori di testo fuori di testo totale ma propino eccola qua così sai donia sai donia sai donia? sai donia? è qui com'è? si si guarda che te lo pongo li butto dentro c'è fossa e sedoni però io posso posso fare un appunto? vai Agnese deve fare un appunto no è davvero guarda che alfa guarda c'è un calcio no vabbè fossa io ti amo fossa fossa è bellissima ciao posso dire solo una cosa? anche due devo dire una cosa a fossa e basta vai una cosa ti tolgo le cuffie? una sola una che dico ho già visto questa scena basta chiudami no anch'io anche lui anche lui